ma bella a tutti e ben ritrovati qua sul canale oggi vi faccio vedere la seconda uscita del star wars e andiamo a vedere un po' qua è tutto è tutto super incollito e il potente vuol dire advanced ok il mini posterino questo si può buttare e il prodotto vuol dire advanced 1 c'è la solita rivista ma non è il profumo ok con le quali statistic che ti spiega un po' tutte le varie parti e quella di Darth Vader c'è poi c'è anche la stirpa la serie TX eccetera eccetera ma che ti spiega un po' di fuori e le che scape ok 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 e la andiamo a visioner il solito supporto che si collega al piedistallo è veramente tanta roba ci vedete anche tutti i dettagli dentro che poi li tengo poi tutti dentro il cartoncino che poi si posiziona così perché sono dopo di andare sempre a pulire però comunque vi assicuro che sono tutti dettagliati al minimi dettagli anche dentro e che è tanta roba e niente signori ve lo consiglio ovviamente anche questo che è molto figo e niente ci vediamo poi a un prossimo appuntamento bella ciao grazie ciao 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 ciao